C'eravamo visti dopo la partita con Cesena, dicendo così ragionando, la fermata oggi è andata piano, però sembra che è andata piano anche oggi, perché la sua falsa riga, la partita è stata sulla stessa falsa riga al di là del punteggio, poi magari 2 a 0, ma c'è il portiere che rinvia e dice la palla dopo 45 secondi, primo unito dopo 3 minuti, prima occasione alla gol dopo 4 minuti, prima o poi dopo 15 minuti, io sulla pacella ho scritto se ti sei pentito di aver risposto la chiamata del direttore generale di questa età. No, assolutamente no, è una scommessa, è un'opportunità, la ritengo ancora tale, possiamo fare meglio sicuramente, sotto tutti i punti di vista dobbiamo fare meglio, però dobbiamo solo continuare a lavorare e rivedere qualcosa che si può sicuramente migliorare, tanto che cosa...